In occasione del Carnevale 2020, il Sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato apposita ordinanza affinché le manifestazioni in programma possano svolgersi in piena tranquillità. In particolare, nelle ore pomeridiane del 23 e del 25 febbraio, quando si svolgeranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici, sono vietate tutte le azioni che possano recare danno o turbativa. Queste le principali prescrizioni, è vietato l'uso di randelli di plastica, gomma, legno di qualsiasi altro tipo di oggetto contundente, la vendita e l'esplosione di mortaretti, la vendita e l'uso per scopi impropi di bombolette spray, il lancio di farina, uova, acqua, ortaggi e di qualunque altra cosa che possa provocare danni a cose e persone. È vietato inoltre qualsiasi altro comportamento o attività aventi pregiudizio per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.